Sinza la BIM, con un tocco magico in una sola notte, sono scomparsi i rifiuti in gran parte delle strade di Pagani. Una task force messa in campo dall'azienda in house Pagani Ambiente che ha consentito questa mattina di non vedere più i rifiuti per strada. Uno sforzo sovrumano da parte dell'amministrazione comunale che in un clima di emergenza cerca anche con l'aiuto dei cittadini paganesi di mantenere pulita la città in attesa di tempi migliori. La situazione rifiuti è ancora critica per quanto ci riguarda e quindi stamattina abbiamo fatto una verifica su tutto il territorio, ho chiesto anche una partecipazione, un incontro con il responsabile dell'Asla per quanto riguarda queste situazioni. Ho già fatto preparare e predisporre da parte dell'ufficio ambiente un'ordinanza per bloccare tutti i conferimenti. Blocchiamo questi due giorni, in questi due giorni abbiamo predisposto attività per la rimozione totale dei rifiuti dal nostro territorio e poi ripartiamo giovedì sera con il conferimento dei rifiuti rispettando il calendario della differenziata. Abbiamo avuto il blocco da parte dello stir che in conseguenza di quello che è avvenuto poi al termovalorizzatore di Acetra e quindi non ci ha dato poi la possibilità di conferire costantemente e quindi si sono accumulati i rifiuti. Dalle parole ai fatti l'impegno dell'amministrazione di togliere i rifiuti dalle strade è partito. Toccherà dunque ora ai cittadini paganesi fare la loro parte non contravvenendo alle sollecitazioni dell'amministrazione comunale, non conferendo i rifiuti di qualsiasi genere, sino a domani in attesa di vedere la città completamente pulita e tornare via via alla normalità.